DARK NIGHT Per raggiungere poi il centesimo piano del Deep Dungeon Il dungeon finale del DLC3 Questo video diciamo anche un pochino corto Ho deciso di mostrarvelo e di farvelo vedere Per ancora una volta motivare le mie opinioni dello scorso video Perché in un certo senso ciò che volevo dire nel mio video Ovvero della difficoltà del Deep Dungeon È diciamo provata anche da questa diciamo distruzione di massa Praticamente tutti i mostri che affrontate all'interno del Deep Dungeon Comunque ogni singolo bastardello che trovate Da il più schifoso, il più mostriciattolo possibile Al mostro alto di rango che insomma è quello che davvero può distruggervi e massacrarvi Sono tutti in un certo senso facoltativi Ovvero che potete semplicemente affrontarli, rischiare la pelle Oppure semplicemente evitarli, girare l'angolo Tipo non mi interessa guarda ci vediamo un altro giorno E andate quindi ad affrontare questi invece, questi nove Che sono effettivamente obbligatori Sono gli unici che vi sbarano alla strada e vi dicono Guarda devi affrontarci Altrimenti di qua non passi E dopo questi boss ovviamente c'è il teletrasporto Quindi il checkpoint Che potete insomma prendere per tornare in città Oppure per proseguire ancora nel dungeon Per quanto riguarda questi nove boss Come vi stavo dicendo sono abbastanza semplici Ma diciamo che ci sarebbero un sacco di sinonimi Per descriverli Ma diciamo la parola semplice Dovrebbe essere abbastanza diciamo rilevante Il fatto già solo che questi nove boss hanno pochissima vita E sono di rango diciamo tra i 1800 e i 2000 A 2002 Diciamo questo range Beh già dimostra il fatto che i monster di rango Sono nettamente superiori Soprattutto per la vita Ma soprattutto per il fatto che fanno dei danni davvero esagerati Soprattutto rispetto a questi Diciamo che come state vedendo nelle clip In molti casi non ho neanche dovuto schivare i loro attacchi I loro danni erano davvero pochi E in ogni caso anche diciamo ferendomi Avevo l'iperarmatura Che mi permetteva quindi di continuare a tirare skill Anche se ferito Quindi in certo senso non c'era neanche proprio bisogno di essere cauti Tipo aspetta fammi vedere un attimo chi attacchi al boss Fammi un attimo gestire questa situazione Quindi davvero Un massacro in pieno stile Sword Art Online Kirito OP Ma in questo caso non è tanto per il fatto che Kirito OP Ma per il fatto che davvero questi mostri sono ridicoli Gli unici che mi hanno tenuto un pochino più di testa Ma per modo di dire Sono diciamo la tartaruga e il golem Perché sono gli archetipi diciamo un pochino più resistenti Contro le armi da taglio Quindi nel mio caso la katana Però per il resto appunto davvero sono semplicissimi Quindi non vi preoccupate E in un certo senso questo video breve Sta anche a dimostrare tutto quello che sto dicendo Insomma sono 9 boss E non arriviamo neanche a 9 minuti di video Quindi in un certo senso Non durò neanche un minuto a boss Considerando anche che mi buffo Prima di attaccarli Se dovevo anche solo tagliare la parte di buff Ogni scontro si abbia durato circa 30 secondi O giù di lì insomma Quindi davvero imbarazzanti questi 9 disgraziati Per il resto comunque nei prossimi video Già inizio ad annunciarvelo Ci saranno diciamo un pochino di cose difficili Cose un pochino più tecniche Perché appunto come vi stavo dicendo prima Questi 9 boss davvero non necessitano neanche di essere schivati Davvero potete tranquillamente attaccarli a testa bassa E siete a posto Mentre invece i mostri alti di rango Che andremo quindi a vedere nel prossimo episodio Saranno davvero il problema serio Il problema davvero grave Grave per cui diciamo il dungeon si può considerare difficile Almeno sotto quell'aspetto Perché appunto questi mostri alti di rango Lo vedrete poi nel prossimo video Sono dei mostri che vi possono addirittura uccidere In maniera davvero ridicola Fanno una combo e vi distruggono Davvero vi tritano la vita E diciamo ho intenzione di farvi vedere diciamo i primi I primi boss alti di rango Insomma quelli davvero cattivi Ma non ancora così pericolosi da one shotarvi Quindi comunque se vi tirano un colpo siete ancora vivi tranquillamente Magari poi più avanti vedremo qualche boss allucinante Diciamo ben oltre il centesimo piano Che arriverà addirittura a tritarvi la vita con un colpo solo Danni da 600.000 o addirittura di più Con un colpo solo Quindi davvero pericolosissimi E questo diciamo tende a motivare Sotto quest'altro aspetto Il fatto che la difficoltà non è che non esista nel dungeon C'è Ma il fatto di poterla semplicemente schippare Quindi poterla semplicemente raggirare Diciamo è il punto focale Su cui mi sono concentrato nello scorso video Appunto nel mio discorso abbastanza lungo Sul deep dungeon Per il resto comunque spero che anche voi Non abbiate avuto difficoltà con questi mostri Perché davvero sono ridicoli E per il resto diciamo che solo sugli ultimi due Ho addirittura usato le pozioni Anche se effettivamente neanche erano necessarie Diciamo che comunque nel corso di questi cento piani Ho anche diciamo evoluto il mio modo di combattere Ho aggiunto diciamo le pozioni Come diciamo anche focus principale sui buff Oltre anche ad alcune modifiche leggere Per quanto riguarda la tavolozza Ma per il resto comunque i buff sono diciamo Sempre di questo tipo E diciamo che i mostri comunque in questo caso Vengono malmenati malissimo Quindi ragazzi spero che questo video Un certo senso vi sia piaciuto Volevo comunque fare un video un pochino più corto Almeno dopo i 40 minuti di chiacchierata Che abbiamo fatto nello scorso E spero in un certo senso che continueremo Insomma a vederci nei prossimi video Per quanto riguarda il deep dungeon Perché diciamo in alcuni aspetti è davvero interessante Diciamo complicato e tecnico anche In altri casi come in questo è abbastanza ridicolo Quindi diciamo da qui in avanti Non vi aspettate di vedere altri boss intermedi O almeno non fino a dei piani decisamente elevati Che ne so magari dopo il 700 Cosa di questo tipo Perché davvero sono ridicoli e imbarazzanti Davvero Cioè farli vedere semplicemente per sfigurarli Niente di più Quindi ragazzi tenetevi forte per il prossimo video E mi raccomando Se avete problemi che mostro il td rango Quindi vi consiglio soprattutto Il prossimo video Quelli davvero sono bastardi E richiede un attimo di esperienza Non basta già solo essere Diciamo potenziati Più non posso Ma bisogna anche saper combattere Un'ottica che Fino a questo diciamo punto Era diciamo Leggermente visibile Invece Dopo vedrete insomma Le skill Possiamo anche definirle così Quindi ragazzi Un bacione Vi saluto con questo draghetto E ci vediamo quindi nel prossimo episodio Che sarà il 75 E quindi ragazzi Ancora Vi rinnovo i saluti E ci vediamo Alla prossima Da Dark Knight è tutto Ciao A tutti